Sono tanto felice di stare qua stasera. Roma, anche se è stata per sette mesi un po' la mia seconda città, amici mi ha aiutato tanto e stasera io ho tutti voi davanti a me e grazie ad amici e soprattutto grazie a voi che mi avete sostenuto e che continuate a farlo e per questo vi ringrazio veramente. E ora ci scateniamo, però io voglio sentire cantare, questa è andata, si scende un bacione.